Alla vigilia della stagione estiva che sembra inizia a partire per quanto riguarda il clima, Tortoreto è pronta ad accogliere i turisti? Assolutamente sì, siamo pronti, abbiamo già predisposto il calendario estivo, adesso stiamo proprio ultimando la pulizia e l'arredo della spiaggia perché abbiamo avuto, come sapete, come sappiamo tutti, ci sono stati questi tempi brutti, queste piogge, queste calunità, è arrivata tantissimo sporco sul mare, di tutto e oggi, proprio oggi stiamo terminando ma siamo già pronti, partiamo già con il 1, 2, 3, con il mercatino dei fiori al centro, con un'anticipazione del Notte Rose dei Bambini che è il nostro Fiore all'Iucchiello che sarà l'ultimo sabato di giugno, insomma siamo pronti, stiamo lavorando proprio per accogliere nel migliore dei modi i turisti che come ogni anno ci onorano di venire a Tortoreto e di avere sempre sulla provincia di Teramo il record di presenza e ne siamo orgogliosi insomma Qualche numero sui record di presenza? Abbandonato il periodo buio del Covid? Sì, ma noi è da 5 anni che siamo il primo comune a giudicarci questo titolo di avere maggiore presenza turistica a Tortoreto quest'anno abbiamo avuto 540 mila, l'altro anno 568 mila, è un lavoro che abbiamo fatto negli anni che abbiamo preso abbiamo continuato a lavorare bene sulla programmazione, sull'accoglienza, sulla pulizia della nostra città, sul verde, la cura di tutto perché non è solamente la sabato, ormai è finito il turismo che venivano, un mese stavano al mare adesso un giorno sta qui, un giorno viene a Camblio o a Civitella, però vogliono godere il paese con le manifestazioni con una passeggiata che tutta la conoscete, stupenda, siamo fortunati, noi abbiamo un territorio bellissimo perché dal mare nel giro di 3 km abbiamo un borgo meraviglioso a Tortoreto Paese, ci completiamo e dobbiamo solamente cercare di mantenerlo e di mantenerlo bene ampliando le offerte ai turisti che arrivano a Tortoreto Grazie